amici buongiorno bene sono rientrato dopo il mio pranzo effettuato con i miei carissimi amici al ristorante e questo video lo voglio fare lo voglio dedicare a tutte le persone che vengono a commentare nei miei video che mi dicono caro leonardo ma perché imiti tizio caio sembrogno allora volevo giusto spiegare ma penso che sia abbastanza comprensibile a tutti i livelli però alcuni purtroppo non già arrivano allora emulare un personaggio non può che darle importanza ma di sicuro non significa offenderlo offendere è un'altra cosa io non ho mai offeso nessuno nei miei video e ci tenevo a precisarlo potete rivederveli tutti non so quanto sono una sessantina di video rispetto a tanti altri personaggi dove hanno addirittura in alcune dirette dette cose molto pesanti che sono state prese sotto gamba però a me non mi importa non vado a guardare gli altri dico soltanto una cosa non confondiamo le squerce la culo fava come si dice a taranto cioè la scorza della fava l'involucro con il frutto cioè la fava stessa quindi cerchiamo di fare questa bella distinzione io cerco di divertirmi di ridere di sorridere e di sicuro non di regalarvi un sorriso perché i miei video sono principalmente improntati sulle ricette però ogni tanto ci sta limitazione no io domani mi sveglio e imito alberto sordi lino banfi adriano celentano non credo che ci sia nulla di male è ovvio che non andrò mai a rappresentare in maniera perfetta il personaggio che voi amate così tanto però ci provano no ci metto faccia ci metto anima e corpo solo che ho notato che molti ci mettono veramente la rabbia che vengono da me mi vengono a commentare dicendo ma leonardo ma tu sei così tu sei colato vuoi imitare quello quell'altro ma qual è il problema non ho capito a chi sto facendo del mare a rega fatemo capì io mi dedico principalmente alla cucina però non amo chi mi viene a stuzzicare chi mi viene a stuzzicare purtroppo come si dice uno se la lega al dito no e quando te la leghi al dito ti diverti un pochettino però sempre in maniera rispettosa senza poi stare a guardare coloro che commentano che magari commentano in maniera esagerando offendendo perché questo non lo reputo giusto nei confronti di nessuno però vorrei far capire ad alcune persone con la quale anche ieri sera in tardasera era quasi luna di notte che mi sono scritto con una donna dove non vuol sapere ragione ma come lei tanti altri perché nel momento in cui vai ad emulare un determinato personaggio ti prendono come il peggior essere vivente di questa terra allora io invece mi vergogno di coloro che esultano e invocano determinate persone a fare cose fino ad arrivare quasi allo sfinimento della della propria vita questa è una cosa veramente triste che mi fa più tristezza vedere questi commenti e non i personaggi stessi nel fare determinate cose perché mi rendo conto che la maggior parte degli esseri viventi hanno queste deformazioni amano vedere la gente al limite io non ci sono mai arrivato non ci arriverò mai sinceramente e ne sono fiero però se mi permetto a volte di emulare alcuni personaggi non vedo il motivo per la quale voi dovete giudicare in maniera pesante o addirittura offendere o addirittura minacciarmi questa è una cosa veramente molto grave e quindi che devo dire molti mi fanno pena molti mi fanno pena in questa circostanza e niente volevo semplicemente esprimere scusatemi questo mio pensiero e far capire a tutti coloro che vengono a commentare che non bisogna confondere le cose ci sono mondi distanti che sono distanti anni luce tra loro e quindi è inutile fare il confronto perché non ci sarà mai magari forse in un'altra vita pertanto vi auguro una buona visione di dei video e dei personaggi a cui voi tenete tanto se volete lasciare il like se volete lasciare il dislike non importa questo è un gioco per me che io la prendo con ironia c'è chi invece la prende con come una questione di vita però è un problema vostro vuol dire che andrebbero riguardate alcune caratteristiche psicoattitudinali a determinate cose quindi se volete continuare a commentare fatelo pure ma era giusto e doveroso da parte mia rispondere ad alcune persone quindi tutto quello che voi dite mi scivola addosso perché io mi reputo una persona abbastanza intelligente non sono una persona grezza non sono una persona che fa dei video dove i bambini non possono guardarli perché non faccio nulla di anomalo pertanto che vi devo dire non vi devo dire più niente cercate di riflettere godetevi un po più la vostra vita vi auguro a tutti una buona serata un saluto caloroso da Leonardo Appetitoso e ci vediamo sempre su questo canale per altri video magari di cucina o altre conversazioni se mai ne avreste voglia un saluto ciao ragazzi vi voglio bene